ciao a tutti benvenuti alla rassegna stampa di scazzo moderato sono tornato a dubai dopo un mese e mezzo di vagabondaggi fra l'italia e malta riconoscerete diciamo lo sfondo tipico della rubrica di scazzo moderato e vi voglio parlare di una notizia che secondo me vale la pena approfondire per farci proprio la riflessione di carattere diciamo culturale e anche generazionale ok e seguite un attimino il mio ragionamento quella che vedete qui è un video con la cantante madame in questi giorni si sta parlando molto di lei perché perché madame è al centro di uno scandalo in quanto vi faccio vedere lo giornale ma lo trovate sui giornali giornali lei ha fatto un finto vaccino ok quindi si è fatta fare il green pass eccetera ma in realtà il vaccino non l'aveva fatta è andata quindi da una dottoressa compiacente la quale dottoressa ha mentito dicendo ho somministrato il vaccino alla cantante qui la vedete quando era sanremo ma in realtà non l'aveva fatto madame per fare un attimino un po di approfondimento sul personaggio prima di andare a parlare nello specifico è diciamo proprio l'incarnazione della piccola idola che piace in questo momento alla gioventù progressista e a tutto il mondo liberale di sinistra donna ovviamente giovane perché la sinistra da anni ormai fra i vari difetti e le varie ideologie stupide che ha tirato fuori c'è questo giovanilismo a oltranza che sostanzialmente non ha senso pensare che i giovani siano portatori in automatico di un messaggio superiore mentalmente culturalmente di saggezza migliore di quello che possono offrire magari gli adulti che hanno già visto la vita e magari hanno un'idea più profonda di come funziona la società no la sinistra è giovanilista per definizione io ovviamente non so neanche dirvelo basta guardare anche qui cappello corto smanato vestita male trasandata onosessuale lesbica che va benissimo perché se ti piacciono le donne chi sono io per dirti che hai torto piacciono anche a me quindi proprio hai tutta la mia comprensione guarda su questa cosa andiamo d'accordissimo fa la cantante abbastanza di successo ha 420 mila iscritti sul suo canale youtube ovviamente come la maggior parte dei giovani cantanti in realtà ha ben poco talento visto che ho ascoltato 3 4 sue canzoni al di là di quello che possono essere i messaggi la musica eccetera lei come cantante è uno di quelli come dicevo tanti altri della sua generazione che farcisci continuamente la sua musica di effetti eco filtri autotune eccetera ora adesso laura pausini ma anche cantanti sì che non esagerati come come può essere max pezzali non hanno mai avuto bisogno di mascherare la loro voce se tu mi stai mascherando la tua voce è come se io vado in giro con la parrucca perché evidentemente sotto non c'è una grande bella roba da vedere e ugualmente lei usa tutti questi filtri eccetera perché evidentemente insomma al di là del personaggio che può piacere a un certo tipo di cultura poi stringi stringi come artista in sé forse è un attimino ancora da migliorare ma andiamo al punto dove voglio arrivare che lei che che come veramente ve l'ho descritto cioè è come proprio ci sono le le spunte da fare non era giovane ce l'ho donna ce l'ho lesbica ce l'ho voce scadente ma la riempio di filtri ce l'ho quindi è l'idola di questo di tutta questa roba qui quando gli dicono fatti il vaccino lei è contraria perché il vaccino non l'ha fatto ma non ha detto io sono contraria e il vaccino non lo faccio lei è andata a cercarsi una dottoressa che gli ha fatto un certificato falso e anche qui bisognerebbe chiarire perché poi la dottoressa stessa interrogata dalla polizia ha detto io l'ho fatto per salvaguardare la salute dei miei pazienti perché perché evidentemente per questa dottoressa come per tanta altra gente vaccinare un ventenne che era al cui il cui covid praticamente era era un raffreddore sì e no statisticamente parlando non lo dico io lo dicono i numeri e danni quindi una malattia una medicina che poteva avere effetti collaterali per una malattia che aveva una percentuale praticamente zero di fagli dei danni seri non aveva senso quindi la dottoressa partendo da un suo ragionamento come tanti altri dottori ha detto non ha senso che io faccio il vaccino a dei giovani perfettamente sani magari i giovani che hanno delle patologie potrebbe essere diverso un discorso stiamo parlando di giovani perfettamente sani e quindi questa dottoressa ha detto no io il vaccino non glielo faccio lei contenta di non fare il vaccino quindi si è fatta fare il certificato falso andando poi però in giro a sbandierare che il vaccino l'aveva fatto quindi qual è la mia riflessione che va al di là della persona singola che è per questo che dicevo che è culturale e ideologica è che la nuova gioventù di adesso rappresentata in questo momento dalla vicenda di madame a differenza di tutte le generazioni precedenti che erano anticonformiste per definizione cioè mi avessero detto di fare una cosa io avrei fatto l'esatto contrario e lo sbandieravo ai 4 20 anche se era una cosa giusta da fare ma soprattutto se non è cosa che era molto controversa avrei detto ma a me il covid mi fa una quindi io col cavolo che prendo una medicina per una malattia che a me sì e no mi fa venire mal di gola lei invece l'ha fatta perché loro la nuova generazione è vittima di un conformismo smodato forse lo fanno perché hanno questo assoluto bisogno un po' diciamo fomentato dai social di piacere a tutti i costi di essere conformisti a tutti i costi per seguire l'onda generale quindi assorbendo quelle che sono le veramente le informazioni e le direttive che gli arrivano dall'alto senza ribellarsi o al massimo facendo una ribellione finta sotto banco dicendo sì 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 ho fatto il vaccino fammi trovare un dottore che invece però mi fa un certificato falso secondo me c'è c'è una questione proprio veramente su cui riflettere che va al di là di leistis ma sul conformismo alla quale si stanno piegando i giovani seguendo una strada che è totalmente diversa da tutte le generazioni di giovani che che li hanno preceduti però attenzione perché questo non vale per tutti perché mentre lei ha dimostrato anche bigliaccheria perché tu accetti qualcosa e poi che alla quale non credi e poi sotto banco fai il contrario di quello che ti viene detto i giovani di altre parti del mondo i non occidentali i non vittime del piacere per forza i non walkie non progressisti eccetera fanno come fa la campionessa nazionale di scacchi dell'iran che a soli 18 anni è già maestro gran maestra internazionale di scacchi che va a un torneo senza velo rischiando la vita questa è una vera femminista questa è una donna con le palle d'acciaio questa qui definitela voi la vedete la differenza la capite la differenza lei sta rischiando la vita non per un'influenza che alla sua età non gli sarà niente sta rischiando la vita perché un regime dittatoriale farà la pelle a lei e magari siccome sono degli infami pur a tutti quelli che gli stanno vicino semplicemente per stabilire la libertà delle donne di non essere costrette a mettere il velo che è una cosa un pochino più seria chiudo questo video perché mi fa ridere mi ricollego a tutto il discorso questa cosa no di tutta la scenista che si è riscoperta negli ultimi tre mesi dalla parte delle donne in iran delle donne che in molti paesi vengono in libese vengono sottomesse vengono ostracizzate bravi complimenti siete forti siete veramente figli voi progressisti no no ma voi siete bravi fammi vedere un attimo fammi ricordare cosa dicevano la sinistra europea poco tempo fa la campagna shock dell'unione europea finanziata e poi dopo le polemiche ovvie che ci sono state è ritirata il velo islamico è libertà beauty is diversity la bellezza è diversità come la libertà quando ti metti i jab questo è quello che dicevano i figliettini europei fino a un annetto fa perché questa questa roba qui non ha neanche un anno e poi poi ci sono i casini in iran e allora di nuovo si cambia la moda e cambia il messaggio e gente che non ha idee e gente che non ha ideali va per mode va per click va per like vanno per i trend di tiktok e di instagram è questo quello che si è il progressismo di oggi è questo è un cancro della società dove non c'è una verità assoluta ma si va al momento in base a quello che potrebbe far comodo a quello che potrebbe offendere di meno quello che potrebbe piacere di siete veramente insopportabili cari miei detto questo spero di avervi dato a tutti quelli che hanno visto questo video qualche informazione utile e come dicevo all'inizio qualche spunto di riflessione importante su veramente la il conformismo orribile brutto proprio che ha preso soprattutto la società più giovane la parte della società più giovane che dovrebbero essere gli anticonformisti per definizione se vi è piaciuto anche bel condividi fa sempre bene per aiutare a crescere questo canale ci vediamo al prossimo video state informati ciao